Per me è un grande piacere vedervi, vedere anche le vostre accompagnatrici. Ho avuto piacere di avere qualche minuto prima di cominciare di parlare con loro e apprendere che voi siete sulla via della chimica, voi avete scelto per quanto riguarda la scuola secondaria questo tipo di indirizzo e immagino da un lato che non ve ne stiate pentendo e da un altro lato che questo vi sia da stimolo per ascoltare un po' e questo è lo scopo del mio discorso stamattina, come questa disciplina, la chimica che ha secoli di sviluppo, che ha una certa immagine, una certa funzione che è interessante sia dal punto di vista conoscitivo sia dal punto di vista pratico. D'altra parte abbiamo un futuro, un presente, un futuro che forse, e questo è lo scopo in parte del discorso che vi faccio stamattina, alcuni risvolti che è probabile che ancora non possiate prevedere ma che dovete comunque cercare di intuire soprattutto se poi sarà questa la vostra professione futura. Questa lezione che faccio stamattina fa parte di una serie, questa serie è organizzata da questa accademia che è l'Accademia delle Scienze, detta dei 40, è un'accademia che riunisce scienziati, inizialmente 40, attualmente ancora 40 e ciascuno di questi ha una discendenza specifica in sostituzione quando la gente scompare. Poi ci sono alcuni soci in soprannumero, in pratica una sessantina di scienziati internazionali e questa accademia ha sede qui in Villa d'Orlonia e quando capitate a Roma potete vedere la sede centrale che è il Villino Rosso qui in Villa d'Orlonia, sapete che questa è una villa che racconta la storia in maniera incredibile, porta via a pochi passi, c'era la sede di Mussolini che abitava qui, c'era tutta una serie di cose nel passato che davano... dal punto di vista scientifico l'Accademia dei 40 organizza questa cosa che si chiama 40 Scienza, proprio per questo, e quest'anno la nostra intenzione è quella di presentarvi alcuni aspetti dell'essere noi nel pianeta Terra e l'essere noi in particolare persone che si interessano alla chimica. Quindi questo nostro... la parola chiave quindi è il viaggio e questo viaggio ieri l'abbiamo impostato e diceva beh ieri è passato noi non c'eravamo come facciamo? Non c'è problema perché molto professionalmente abbiamo la fortuna ma è che queste lezioni vengono registrate, queste lezioni rimangono su Youtube e rimangono su... potranno essere viste nel sito dell'Accademia dei 40 che voi potete facilmente trovare in rete o potete vedere quindi cosa è successo prima e cosa succederà nelle lezioni successive. Sono contento che mi sia stato detto che voi avete delle nozioni di chimica generale, siete proprio affrontando la chimica organica, quindi in un certo senso questo è un passaggio importante perché il passaggio da... ci sono degli elementi, degli atomi si combinano eccetera, poi arriva il carbonio e succedono delle cose di grande incredibile complessità tra cui non... non trascurabilmente la vita insomma no? E quando arrivo alla questione della vita capite che le cose non possono essere semplici e non possono essere completamente conosciute ma è necessario che le conosciamo il più possibile perché ci dobbiamo curare, dobbiamo vivere meglio eccetera. Quindi a questo punto il gioco si fa molto 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 serio, complicato ma non ci deve scoraggiare nella sua complessità. io qui ho dato un titolo talmente generale perché non sapevo nemmeno inizialmente quali fossero le classi eccetera, tra l'altro alcune cose le ho sapute stamattina, e di darvi un'idea che la chimica ha una storia e la chimica può raccontarci delle storie, in particolare ci può raccontare se noi andiamo a vedere informazioni che vengono dallo spazio, informazioni che vengono dall'astronomia, dall'astrofisica e dai satelliti che mandiamo in giro per esempio, la chimica ci può dare un'idea di come è stata l'evoluzione dell'universo dandoci informazioni anche nel passato, perché sapete i segnali dal passato mettono la velocità della luce per arrivare a noi e voi dite, oh la velocità della luce è altissima, è altissima sì, però le cose che si vedono sono così lontane che quello che noi vediamo è la storia del nostro pianeta, su cui possiamo immaginare quale sarà anche la storia futura del nostro pianeta a noi ci interessa il presente e il futuro prossimo e anche qui dovremo imparare tante cose per sapere come comportarci per come utilizzare l'energia, preservare le condizioni ambientali, tutte cose che sono nelle prime pagine del dibattito di questi tempi anche, lo sapete, per i movimenti ambientalisti e per i problemi energetici che sono connessi Allora, nel tempo e nello spazio, dalle molecole, dagli atomi alle molecole prebiotiche prebiotiche che vuol dire? Vuol dire quelle molecole che sono abbastanza complicate da farci pensare che poi saranno loro che costruiranno i mattoncini per costruire le molecole biologiche che sono effettivamente attive sono più complesse, ma non credo che andremo molto lontano, comunque cercheremo di dare un'idea di come anche nello spazio, in zone incredibilmente inospitali per quanto riguarda la vita, si sono trovate delle molecole che sono abbastanza complicate da farci pensare che hanno un piglio abbastanza vigoroso per andare avanti magari storicamente a costruire le molecole della vita Allora, non posso fare a meno, ho dedicato parte della lezione di ieri a Primo Levi e non posso fare a meno di citare questo libro questa è la prima edizione del 1975 Primo Levi, come immagino voi sappiate, è stato uno dei più grandi scrittori italiani basta uno dei più grandi testimoni, suo malgrado, dell'olocausto e basta, ogni cosa basterebbe un chimico lui fino a che si è laureato in chimica nel 1941 ha avuto difficoltà perché già c'erano le leggi razziali non ha potuto fare il chimico sperimentale perché già c'era una proibizione che agli ebrei non si doveva dare in mano oggetti della chimica che potevano essere importanti per la strategia del fascismo e cose assurde lui ha fatto una tesi di cui in parte diremo qualcosa non sono sicuro, comunque potete guardarlo nella lezione precedente e quando è tornato ha continuato per molto tempo a fare il chimico soprattutto nell'industria finché si è accorto che aveva un dono incredibile per la scrittura per cui è diventato il grande scrittore che è diventato e fortunatamente non si è dimenticato di scrivere quello che è considerato uno dei più bei libri di cultura scientifica che siano mai stati scritti il sistema periodico ve lo consiglio il sistema periodico di Primo Levi è una serie di 40 capitoli scusate di 21 capitoli dedicati a vari elementi questi 21 elementi terminano con il carbonio e leggetevi anche se non ve lo leggete tutto leggetevi l'ultimo capitolo lo trovate in rete dappertutto il carbonio ci mettete un quarto d'ora e veramente vi da l'idea di molti aspetti che non potevate prevedere che vi fanno capire chi siamo, dove andiamo che cosa stiamo facendo in particolare come futuri chimici Primo Levi comincia questo capitolo sul carbonio dicendo però gli atomi no? non si vedono io descrivo il viaggio dell'atomo di carbonio ma gli atomi non si vedono beh mi dispiace cominciare così questo finisce così il suo questo è falso com'è falso? si è falso, adesso gli atomi si vedono ma che vuol dire gli atomi si vedono? cercheremo di far capire che effettivamente adesso siamo al punto che parecchi decenni dopo noi siamo in grado di seguire quello che fanno gli atomi uno per uno e questo ci da una possibilità enorme nel risolvere un problema fondamentale c'è il piccolo, c'è il grande, c'è l'intermedio ci sono gli spazi come tutto questo è connesso intuizione di Galileo la scienza che c'è nella nella luna la scienza che c'è nelle stelle che io comincio a vedere puntando il telescopio al cielo vale deve avere delle stesse leggi che faccio io Galileo è il più grande sperimentale di tutti i tempi nel mio laboratorio faccio cadere i pesi nel piano inclinato misuro le pressioni, misuro il suono misuro tutto questa è l'intuizione di Galileo ci crediamo? probabilmente credo che non ci sia di meglio probabilmente ci saranno ancora delle cose da imparare in più però sicuramente quello che noi impariamo dal laboratorio lo vediamo riflesso in tutte le cose che conosciamo dove facciamo dal più piccolo al più grande e dal più piccolo al più grande riceviamo messaggi che ci dicono guarda devi modificare la tua scienza per adattarti a questa visione unica che ci porta avanti e ci da anche gli strumenti per il progresso per il progresso parlando di Galileo è evidente che Galileo non è stato membro di questa accademia è stato membro dell'Accademia dei Lincei l'Accademia dei Lincei è stata interrotta questa accademia è stata fondata nel Settecento durante un periodo veramente oscuro nella storia d'Italia e però voi vedete Primo Levi e qui c'ho una citazione di Tullio Regge che è scomparso da qualche anno ma è stato un grande membro di questa accademia il più importante fisico teorico italiano del secolo e diceva voi non sapete quanto è stato importante Avogadro e anche Gandizzaro Avogadro le molecole eccetera la chimica in un certo senso le molecole non dico questi sono i personaggi chiave e mi fa piacere dire che tutti questi personaggi qui menzionati tranne Primo Levi sono stati membri di questa accademia quindi anche noi abbiamo una storia una certa responsabilità diciamo così allora io comincio spesso questo è preso dalla Scientific American c'è l'edizione italiana e le scienze ma quando ho preparato questa cosa non ho fatto in tempo a trovare la cosa in italiano però voi qui capite che qui ci sono dieci misteri non risolti quindi invece di presentarvi delle soluzioni qui vi presento dei problemi quali sono questi dieci misteri non posso entrare su tutti però qui voi leggete molte più delle più profonde domande scientifiche e alcune alcuni dei problemi più urgenti dell'umanità appartengono alla scienza degli atomi e delle molecole cioè alla chimica va bene? allora la prima di come ha cominciato la vita? bella domanda come si formano le molecole? bella domanda io credo che i problemi sono dieci e le domande sono in questa cosa noi non risponderemo né all'una né alla prima né alla seconda ma cercheremo di affrontare almeno questi aspetti quello che si sa in questo momento della prima e della seconda e degli altri otto non lo so credo che non faremo il tempo nemmeno a toccarli però già basta questa prima pagina per dirvi che se parliamo un po' di come sono nate le molecole come è cominciata la vita come si sono formate le molecole già stiamo abbastanza avanti io direi che un aspetto particolare cercherò di dare proprio a proposito di queste questioni queste sono le altre domande non le leggo nemmeno a questo punto ci ritorniamo più tardi va bene e allora la vita le molecole della vita sono costituite dal carbonio 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 e qualche altra cosa va bene e però questo questo collante che 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 dà al carbonio la possibilità di costruire le sue architetture è costituito è dovuto anche a molecole più semplici e queste molecole più semplici sono quelle che sicuramente sono nell'universo si sta scoprendo adesso ci sono sicuramente nella terra e è difficile pensare che strutture così complicate come quelle della vita siano venute prima delle molecole semplici quindi nel 1953 un personaggio Miller pensò di fare un esperimento in cui mettendo ossido di carbonio azoto e acqua metano ammoniaca idrogeno e qualche altra cosa fece un esperimento in cui metteva tutto dentro un reattore chimico faceva delle scariche elettriche e vedeva che cosa si otteneva non è stato semplice ha cercato di trovare le condizioni e così via e ha trovato che era possibile ottenere la sintesi di molecole organiche complesse da semplici molecole inorganiche immaginando condizioni varie per esempio quelle sotto lampiettoni nell'atmosfera terrestre quelle sotto lo sfogo gassoso dei vulcani quello sotto azione dei venti solari sorgenti idrotermiche e così via e ottenne delle molecole e quindi praticamente mi sembra aver capito che voi state al secondo anno all'inizio del terzo anno tra il secondo e il terzo c'è il passaggio alla chimica organica quindi come è stato fatto il passaggio alla chimica organica scusate la battuta vabbè allora è interessante avere un'idea della scala e della grandezza dei sistemi questo voi lo sapete ma tenete presente che se prendiamo l'uomo a misura di tutte le cose questo è secondo il famoso disegno di Vitruvio immortalato da Leonardo e quest'anno c'è il cinquecentenario di Leonardo quindi se non imparate un sacco di cose su Leonardo quest'anno diciamo perdete delle occasioni vi verrà presentato Leonardo in tutte le forme d'altra parte è talmente grande che da tutte le guardate imparate qualche cosa quello è il disegno di Leonardo dell'uomo vitruviano che era un architetto romano latino e se prendiamo l'uomo come misura di tutte le cose e vedete che abbiamo che l'atomo le dimensioni l'atomo non è infinitamente piccolo è piccolo è 10 alla meno 9 metri conoscete questa notazione vuol dire eh conoscono e quindi un sacco di zeri e poi c'è un 1 da qualche alla fine va bene quindi io ho fatto eh vedete il livello atomico che il chimico vuole capire e manipolare e il livello della nanotecnologia che eh il microchips qui ho dato l'esempio poi c'è ancora un passaggio di mille di mille ogni passo è di mille andiamo a un 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 essere vivente che ci sembra piccolo prima di arrivare dopo un passo di mille arrivare all'uomo ma se continuiamo eh io qui ho trovato che nella nelle vicinanze il monte più vicino di mille metri era il cipino eh e da un metro vedete poi andiamo ah ho fatto un cerchio ho trovato Strasburgo a a a 10 alla 6 chilometri finché arriviamo al diametro del sole certamente eh non è stato facile eh accettare il modello atomico eh il fatto che eh la materia fosse costituita di particelle fondamentali i i i i greci e in particolare democrito eh cercò di eh introdurre questo concetto ma fu fortissimamente criticato fu fortissimamente criticato non so se voi conoscete i paradossi di Zenone in particolare quello della della di Achille la tartaruga lo conoscete Achille la tartaruga dice non è possibile che possiamo capire qualcosa sulla natura discreta e continua perché guardate il paradosso il il pie veloce Achille fa mentre fa un metro e vuole acciuffare la tartaruga la tartaruga fa un piccolo passo a forza ogni se dividiamo tutto questo in passi successivi c'è il fatto che eh Achille la tartaruga non la non la raggiunge mai questo concetto importante della natura della continuità e delle cose è stato oggetto di dispute matematiche per duemila duemila anni la matematica dell'ottocento il calcolo è iniziato in parte da Newton nel settecento e poi i grandi matematici dell'ottocento e dei primi del novecento hanno studierete la matematica più avanzata con il concetto di limite e il concetto di calcolo cosiddetto integrale che farete più in là noi adesso abbiamo gli strumenti matematici che consentono di descrivere queste queste cose dal punto di vista formale quindi con l'aiuto dei calcolatori magari e altre cose alcuni problemi che riguardano questi paradossi li possiamo risolvere e allora noi naturalmente in laboratorio nella nostra realtà quotidiana che cosa abbiamo di fronte abbiamo quella che si chiamava una realtà che qui chiamo macroscopica non perché è grande ma perché è grande rispetto al piccolo degli atomi che adesso noi siamo ormai convinti che esistano e vedremo che dunque queste proprietà sono la massa il volume eccetera mentre le realtà microscopiche sono la struttura dell'atomo il legame chimico mi sembra di aver sentito che qualche cosa voi la sapete e adesso in più forse qualcosa che dovrete studiare più adeguatamente nel seguito è le interazioni che avvengono tra molecole questo ancora è un passo molto più avanzato che dovrete affrontare soprattutto per vedere come si formano i liquidi come si formano i solidi e soprattutto una cosa che è molto interessante che sarà in parte oggetto di quello che diremo come reagiscono come reagiscono gli atomi e le molecole allora la chimica deve fare questo avanti e indietro avanti e indietro dal microscopico al macroscopico finché non si trova un accordo sulle leggi e su come trattarle quindi sottolineo in questa in questa diapositiva che vi inviterei a a considerare in particolare non soltanto proprietà struttura e preparazione delle sostanze ma anche le loro reazioni per quanto riguarda la teoria e la pratica degli esperimenti delle reazioni ci sono da un lato gli aspetti che riguardano la struttura delle molecole e dall'altro come queste strutture si modificano e quindi la terminologia di questo aspetto della chimica si chiama cinetica chimica cioè lo studio delle velocità con cui le trasformazioni hanno luogo e come possono avere luogo sia naturalmente sia in pratica questa la dinamica di reazione cioè la cinetica microscopica vuole indagare le reazioni allo scopo di determinare il comportamento in modo che descrivere una cosa importante come si rompono i legami tra le molecole da un lato e come si formano i nuovi legami delle molecole prodotte e questo dipende dalle forze che si esercitano tra le particelle molecolari che vengono coinvolte nel processo voi sapete che quando si parla di atomi abbiamo a che fare con un nucleo e degli elettroni quando si parla di molecole abbiamo a che fare con vari tipi di nuclei e vari tipi di elettroni e questi vari tipi di elettroni sono distribuiti in un come si diceva per semplificare come un sistema planetario quindi si fanno le orbite e si disegnano così questo non è vero nel senso che gli elettroni e questa è stata una grossa rivoluzione che all'epoca di Levi si stava affermando gli atomi e le molecole non obbediscono gli elettroni negli atomi e nelle molecole contrariamente a quello che pensava Galileo non obbediscono alle leggi della fisica che noi su cui noi abbiamo fondato l'ingegneria su cui noi abbiamo fondato l'astronomia su cui noi abbiamo fondato tutta una serie di conoscenze la più grande rivoluzione scientifica del secolo scorso ed è la rivoluzione quantistica voi dovete sapere che dovremmo fare uno sforzo di adattamento al fatto che in particolare noi chimici gli elettroni sono così piccoli e così evanescenti e così sensibili al fatto che loro reagiscono quando li guardiamo reagiscono questo è il punto fondamentale che la loro descrizione non è la descrizione della fisica che avete cominciato a studiare a scuola e che descrive il modo dei pianeti eccetera ma ha bisogno in gran parte è vero ma in gran parte non è così perché memorizzate in qualche modo il fatto che la rivoluzione quantistica che ha portato all'elettronica per esempio l'elettronica è la scienza degli elettroni no? gli elettroni voi sapete che portano la corrente come la portano la corrente? la portano seguendo delle leggi che non sono le leggi semplificate di un delle di particelle che viaggiano per esempio in un flusso in acqua in un fiume ma sono leggi che vanno modificate opportunamente non vi dovete eh fermare di fronte a questa apparente difficoltà concettuale che la chimica dagli anni 30 40 e Levi era al limite di queste conoscenze stava acquisendo in grande tutte queste conoscenze queste conoscenze quantistiche avrete sentito questa espressione quantistico 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 che vuol dire quantistico? quantistico vuol dire che quando si scende a livello microscopico alcune modifiche al comportamento delle palle da biliardo dei pianeti che ruotano così ci deve essere nel grande queste modifiche di comportamento furono scoperte da Einstein eh con la relatività che è in realtà una conseguenza geniale delle leggi di Galileo Galileo diceva si deve studiare il modo relativo di come si comportano le cose una rispetto all'altra quindi la relatività è Galileo Einstein quindi non ha fatto niente ha fatto la relatività ristretta ristretta no una delle più grandi scoperte di tutti i tempi e che ci consente di studiare il comportamento dell'infinitamente grande no? dell'infinitamente piccolo c'è invece la meccanica quantistica che interessa i chimici anche anche la relatività galilea e Einsteiniana ci interessa in parte non vi dovete spaventare se studiate bene la fisica queste modifiche adesso le abbiamo capite verranno fuori in maniera abbastanza naturale ma quando furono inizialmente scoperte è chiaro che i scienziati si trovarono un po' da un lato traumatizzati da un lato i più valorosi appresero immediatamente queste tecniche in modo da poterle sfruttare e poter avanzare 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 la scienza una reazione è la famosa reazione più semplice è la reazione abc l'atomo a e la molecola bc una reazione è un la molecola bc ha un legame arriva all'atomo a e si prende l'atomo b forma ab e e c queste molecole noi le studiamo a una certa pressione a una certa temperatura in un recipiente in una certa pressione in un recipiente osserviamo non immediatamente il risultato di questo incontro ma studiamo quello che succede globalmente in un numero altissimo di incontri quanti sono questi oggetti questi oggetti per ritornare alla alla a un nome che avete visto prima quanti sono questi oggetti lo sappiamo lo sappiamo in base soprattutto al lavoro di Avogadro e di Cannizzaro e voi conoscete il numero di Avogadro che non è che qualcuno l'ha scritto sulla pietra sul Montesina il numero di Avogadro è stato trovato da questi due in qualche modo questi due scienziati italiani e altre cose hanno contribuito a fare quindi noi adesso riusciamo a immaginare come una reazione possa avvenire e possiamo immaginarlo figurandoci un film no? questo film lo possiamo figurare col computer noi sappiamo io che cosa ho cercato di farvi digerire che con la meccanica quantistica che è un miglioramento della meccanica di Galileo e Newton riusciamo a interpretare cosa fanno i nuclei e gli elettroni va bene? e quindi sono delle equazioni queste equazioni la matematica dell'ottocento in parte quella del novecento ci ha insegnato come si scrivono e ci ha detto e per risolverlo ma si possono pure risolvere se uno ha pazienza eccetera i calcolatori hanno questa pazienza noi riusciamo con la cosiddetta chimica teorica a studiare quella che si chiama la dinamica degli atomi e delle molecole per seguire le reazioni chimiche e quindi possiamo seguire le reazioni chimiche uno per una va bene? adesso voi potete pensare che io vi sto imbrogliando perché io vi ho detto che noi vediamo e questo è un certo punto questo è sufficiente per dire che noi vediamo gli atomi e le molecole? beh fino a un certo punto no adesso entra il fatto che dobbiamo avere un po' di pazienza e cercare di capire che se noi cerchiamo che noi probabilmente riusciamo a fare degli esperimenti che riescano invece a farci vedere gli atomi e le molecole uno per uno per fare questi esperimenti abbiamo bisogno di vedere non in un filmato quello lo possiamo fare io vi porto in laboratorio vi faccio vedere il risultato dei calcoli oppure posso fare i calcoli con un computer adesso con un computer come questo si possono fare dei calcoli che si vedono le molecole che si avvicinano si allontanano collidono e reagiscono va bene? quindi perché noi sappiamo le leggi che regolano queste cose qui se il gioco si fa complesso è chiaro che questo non si può fare e quindi è sempre necessario ricorrere all'esperimento primo per vedere se abbiamo fatto bene la conferma secondo per vedere se quello che abbiamo trovato può essere e servire da modello per situazioni molto più complicate che noi non sappiamo non sappiamo non sappiamo elaborare va bene va bene adesso io dico che queste reazioni la tecnica questo si chiama la dinamica molecolare la tecnica sperimentale e quindi abbiamo bisogno quello che vi ho detto finora riguardava la teoria e per quanto riguarda l'esperimento per quanto riguarda l'esperimento voi vedrete queste slide nel filmato noi possiamo fare esperimenti in cui possiamo vedere gli atomi uno per uno possiamo vedere gli atomi che si avvicinano e molecole che si rompono molecole che si formano abbiamo bisogno di ultra vuoto ma ultra vuoto e noi ce l'abbiamo alcuni laboratori ce l'hanno noi abbiamo bisogno di rivelatori che riescano a vedere distinguere gli atomi uno per uno e noi ce l'abbiamo e quindi questo tabù ormai è stato è stato risolto noi alcuni laboratori hanno a disposizione delle tecniche che possano vedere quello che fanno gli atomi e le molecole singole questi oltre agli aspetti conoscitivi questo ci può servire anche per la comprensione di architetture complesse e anche di importanti conseguenze pratiche come quelle energetiche noi possiamo studiare le varie reazioni e vedere come le reazioni portano per esempio alla fiamma la combustione possiamo studiare cosa succede nelle atmosfere planetarie possiamo capire quali sono gli agenti inquinanti possiamo andare poi e questo è molto interessante e nuovo andare a domandarci cosa succede negli sistemi planetari in particolare per esempio Titano che ha vedete un'atmosfera con azoto idrogeno metano e ha grossomodo il titano è un satellite di saturno che ha grossomodo la pressione atmosferica della terra però ha azoto come l'atmosfera terrestre ma invece di avere l'ossigeno ha il metano e l'idrogeno cioè se voi immagino abbiate cominciato a capire che poi è tutto sistema di ossido riduzione quindi imparate questo antico forme ridotte metano idrogeno carbonio a meno 4 fine CO2 perché c'è la morte finale CO2 eh d'accordo eh meno 4 più 4 metano meno 4 più 4 CO2 4 e tutto sta lì dal meno 4 al più 4 del carbonio eh tutta la storia questo è un'atmosfera primordiale perché c'ha il metano al posto dell'ossigeno vedete eh e quindi eh studiare l'atmosfera di titano è studiare la in un certo senso la terra eh primordiale non non do i numeri di quanti anni fa o cose del genere e quindi una missione spaziale ha portato eh questi sono Cassini un astronomo italiano e Huygens che nel settecento hanno studiato l'astronomia di titano e che poi adesso ci sono dei satelliti che li portano a a a a a a a io sarei adesso eh per concludere dicendo che tutte queste informazioni tutte queste cose richiedono il contributo dei chimici ritengono il contributo dei chimici perché queste informazioni che vengono dallo spazio devono essere raccolte catalogate interpretate eh le reazioni che si pensa che abbiano luogo devono essere capite simulate studiate con le tecniche teoriche sperimentali che vi ho accennato e e quindi voi dovete tenere presente che eh addirittura per quanto riguarda molecole biologiche noi riusciamo a controllare le molecole uno per uno con delle tecniche di di eh speciali e questa storia che gli atomi non sono visibili non è vera perché voi sapete che il sodio ha la luce gialla no? eh lo sapete le lampade al sodio sono gialle perché sono gialle? perché a un certo punto il sodio che è un sistema quantistico quantistico vuol dire che i sistemi sono a vari livelli niente di più quindi vuol dire che il sodio ha un livello e un altro livello quando gli si da energia va sopra quando cade e mette giallo va bene? l'occhio umano accuratamente esercitato può vedere un atomo di sodio un flash giallo che è dovuto a un atomo di sodio se sta in stato di riposo e se si guarda per bene quindi questa storia che gli atomi sono invisibili non esiste figuriamoci che cosa si può fare con i sistemi attuali di alto vuoto di elettronica di rivelazione dei segnali eccetera insomma c'è un sacco di lavoro da fare c'è un sacco di lavoro interessante da fare non tanto in sé ma anche per le prospettive del nostro pianeta che continua il suo viaggio e ha bisogno di energia ha bisogno di salvaguardare l'ambiente ha bisogno di conoscenze 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 che spero voi e cominciate a prendere questa torcia di portare avanti le conoscenze e andate avanti nella maniera sperabilmente più soddisfacente per voi e più proficua per tutti quanti noi ma io a questo punto concluderei guardatevi questa cosa quando verrà in rete e seguite anche le lezioni successive su argomenti che più o meno sono su questa linea grazie io voglio sapere solo un'informazione aveva parlato della distanza il diametro dal sole il diametro del sole no? voglio sapere la distanza da la terra al sole che poi non aveva detto alla fine certamente il è del di un ordine di molti ordini di grandezza superiori il il diametro del sole è 10 a 9 no? rispetto al metro consideriamo il metro come come misura umana la la distanza dalla in questo momento non è che sono in grado di dirlo con precisione eh? va bene ma si tratta di migliaia 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 di di chilometri penso che saliamo di almeno 10 alla 6 ordini di grandezza posso dare una stima 10 alla 15 eh? rispetto eh? la situazione della distanza del sole non è pensabile eh eh comunque siamo arrivati a Saturno eh? intorno a Saturno eh c'è stato il primo il primo atterraggio perché ho parlato di Titano? ho parlato di Titano perché è stato il il satellite titano eh di Saturno eh ha eh queste caratteristiche di somiglianza con la terra primordiale eh? e quindi la 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 sua chimica ha stimolato molto interesse e e la la sonda eh Cassini Huygens è la ehm il primo atterraggio su un è un un satellite non è non è un vero e proprio pianeta ma è un satellite che ha le dimensioni di un pianeta con un'atmosfera gassosa come sapete la luna non ce l'ha per esempio ecco e quindi eh siccome avete capito che si dice il gas il gas che cosa ci interessa tutte le reazioni avvengono nei gas se voi questo forse sfugge diceva bene il liquido nel liquido avvengono delle reazioni perché c'è una dissociazione eccetera ma il liquido in sé le 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 reazioni le fa soltanto con la sua tensione superficiale e quindi nei gas i solidi non reagiscono stanno fermi per per millenni eh se non gli si disturba certo se li si rompe se li si gli si riscalda eccetera reagiscono le reazioni gassose sono importantissime sono fondamentali eh e quindi certamente le reazioni biologiche avvengono perché nelle in soluzione acquosa l'acqua ha le proprietà di dissociazione eh degli ioni positivi e negativi che consentono interazioni elettriche positivo negativo interazioni elettrostatiche eccetera questo riusciamo a capirlo abbastanza bene con con la fisica dell'ottocento che è la fisica di Galileo e Newton e in più le interazioni elettro elettromagnetiche poi è arrivato Einstein con la relatività per quanto riguarda i sistemi grandi e la meccanica quantistica per l'interpretazione del comportamento degli elettroni non è esattamente la risposta che il collega si aspettava si aspettava un numero preciso e gli ho detto pressa poco e lei cosa ne pensa riguardo al fatto che comunque il nostro pianeta sta decadendo visibilmente e cosa ne pensa magari riguardo al fatto di trasferirsi su un altro pianeta stanno prendendo in considerazione anche Marte rispetto alla chimica atmosferica che è lì interessante fondamentale un problema attualissimo pensare che nel immediato futuro la soluzione possa essere un'emigrazione su Marte è meglio che non ci speriamo perché questo non deve nemmeno servire da alibi per il fatto che il pianeta che abbiamo lo dobbiamo preservare quindi io credo che lei già ci aveva in mente che in realtà la soluzione fondamentale è che noi questo pianeta lo preserviamo lo preserviamo sia per le dal punto di vista energetico io ho cercato di di darvi un flash no energia e inquinamento no energia e inquinamento è importante che ci stiamo attenti e chiunque neghi neghi che questi problemi esistono non fa bene all'umanità e chi non lavora se viene chiamato a lavorarci o se per suo istinto predisposizione attitudine vuole lavorarci non ci lavora non fa bene a se stesso secondo me e agli altri ecco dico soltanto questo e penso che ci siamo capiti a sottotitoli e Grazie a tutti.